Ma Piedicrotto era una bellissima festa, figurati che era una festa mondiale, a livello mondiale, addirittura Viviano ci aveva fatto una commedia a Coppa, sta festa, sai nasce e muore qua, però non ho mai capito tre. Era una bellissima festa di Piedicrotto, che si faceva la Madonna di Piedicrotto, perché quella praticamente, ci sta pure la chiesa, a piazza San Nazaro, Coppa, prima di imboccarti nella grotta, sta a chiesa la Maronna di Piedicrotto, da dove quella santa lì si fa la festa. E in che conto, non ci devi? Tu, ci stai proprio a spilare dei carri allegorici. Eh, passano tutti i carri a briare. Ma dove è allegorici? Ma dove è allegorici? Allegorici, allegorici, chiede di me. Allegorici, animale, silenzio. Allegorici, andate, ma pure tu signorando, allegorici. L'allegoria, no, che ogni carro voleva significare qualche cosa, era un fatto allegorico. Per esempio, c'era una grande ostrica con una bella a centro e questa bella, casomai, era una bella ragazza napoletana. Oppure c'era una bella porticata piena di fiori, inzetti, che cantavano e sballavano le canzoni del Festival di Napoli. Ma quello, il Festival di Napoli? Questo canzoni che si arriva fuori! No, 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 no. Ti spiego, chi le fa solo a me, chi le non era, se la voce mi trafoni a piedicrotto a fuoricrotto, ma era mi abbagnavo la roba. Ma come piaceva questa festa? Lui voleva dire praticamente che la piedigrotta si cantavano le canzoni, le vere canzoni napoletane, le più belle canzoni napoletane non sono nato lo festival, lo festival è una cosa che è venuta dopo, c'erano le famose piedigrotte, ogni carro rappresentava una canzone, poi dopo è venuto lo festival in Napoli. Ma fatti sticare come la specie di carnavalo, la gente si vesteva tipo carnaval, si vedevano i cappi all'angalo, si vedevano i vestiti di carta, ti ricordi? Vestiti di carta, ma come vestiti di carta? Tu mi vedi le bambine, tutti i vestiti di stoffa invece prima si facevano con dei rotoli di carta colorata. E che rotoli ci volevo per Leonardo? La cartigine. E qua? Mi ricordo con la canna da pesca, ti ricordi? Ma per adesso Cuppolona? Cuppolona praticamente non era altro che un cilindro, un cilindro di cartone a forma di canter, ecco, così, fai vedere che lei non lo sa. Capri o cantero? Ecco, o cantero, poi il cantero volta già diceva una cosa, il cantero da dove prende origine? Devi sapere che una volta a Napoli faceva né casa bella, grosso, cinque stanze, sei stanze, però eventualmente si scordavano, o cesso. Allora, oppure facevano, sai, il bagno lo facevano fuori a un balcone, o facevano un bagno in comune nell'altro del palazzo. E quando facevano fritto? E appunto, quando facevano fritto, allora un napolitano diceva, un napolitano che è sempre grande, se fa sicco ma non muore, inventarono il famoso cantero. Vabbè, ma capite? Volgarmente detto cantero, ma poi si chiamava Usipeppe, fai vedere? Ma capite? Non confondere con l'orinalo. L'orinalo, oh, questo che poi si chiamava in italiano, fatto da notte, ah, c'è tutto nevole indagato, la notte facevano, a mattina, o vedevano a città cantare. Da questo fatto qua, nasce il tuo cuppolo, e facevano il cartone, attaccato in montagna, una cannuccella, poi scendevano sti guaglioni, appena trovavano un soggetto poco curioso, eh, non rire, no. Se mettevano il tuo cuppolone in capa, io avrei quanti poti sono scomparsi sotto l'orinalo, e facevano un bello cuppolo. E questo era uno dei tanti.